Voglio dire tre cose che mi ha lasciato Mammel, che sono finito della mia vita. La prima cosa, mi chiedono spessissimo, ma tu fai, in quel periodo c'è, tu vuoi fare il cinema per via di papà, di nonno di Vittorio? Assolutamente no. Voglio fare il cinema perché il cinema mi ha fatto conoscere il zio Mammel. Nella sala, nel divano, a casa di nonna. Tutti i film che conosco, tutto quello che ho visto, l'ho imparato da zio. Quello che so, l'ho imparato da zio. E quindi sono molto grato di aver visto tantissimo, sono un rincommento di visto. La seconda cosa, mi farei un sacco di risate a casa con tuo padre, giocarlo. In realtà le risate più grandi, più grosse della mia vita, che ho fatte con zio Mammel, che oltre a essere un cinema meraviglioso, è la persona che ha il senso del humor, che, almeno a me, mi piaceva in assoluto. E la terza cosa è che Nia ci ha regalato un cugino, che è un fratello per me, Andrea. E grazie a tutti di essere qui. Grazie.